Duro attacco alle banche, questa volta a salire sulle barricate, è il governatore del Veneto Luca Zaia e lo fa partendo dal caso emblematico dello stabilimento ACC di Mel nel Bellunese. Da domani rischia di chiudere lasciando a casa 600 lavoratori un dramma nel dramma dato che l'area montana è ancora più depressa della pianura e questo perché alcune banche si rifiutano di unirsi all'80% degli istituti di credito che già sarebbero disposti a finanziare l'azienda. Si tratta di 14 milioni di euro che la fabbrica è in grado di restituire perché conta su molte commesse. La crisi della società infatti non dipende dai mercati ma dall'assenza di liquidità. Il commissario straordinario di ACC sta operando senza supporto da parte del credito dal suo insediamento e dovendo pagare in anticipo i fornitori e potendo essere pagato dai clienti solo a consegna avvenuta non ha più la liquidità per andare avanti. Ora tutte le risorse sono esaurite. Se le banche non interverranno, dice Zaia, martedì 12 si chiude. La beffa atroce, continua il governatore del Veneto, è che i clienti dirotterebbero i loro ordini sullo stabilimento austriaco che fu di ACC, visto che quello stabilimento produce regolarmente avendo ricevuto dalle banche austriache abbondanti finanziamenti pur nel corso della procedura fallimentare davanti al Tribunale di Grazia. Alcune banche stanno temporeggiando, nonostante le trattative siano iniziate il primo di agosto. Ma non c'è più tempo. Quello che sorprende è che poi, a conti fatti, questi 14 milioni di euro vengono spesi per i compensi dei manager degli istituti di credito.